Il Cogna 2003 espugna meritamente i rivoli di Lavagna, conseguendo tre punti di rilevante importanza per prendere sempre più le distanze della zona play-out. A Ciasetta, colpita a freddo dal primo gol ospite, ha provato con Gagliardia a riequilibrare subito il passivo, ma nel momento di maggiore pressione ha subito il raddoppio valligiano. I ragazzi parlanti non lesinavano energie eppure non ottenevano riscontri oggettivi al loro impegno. Un probabile calcio di rigore non assegnato ai lavagnesi pesa nell'economia dei locali, i quali nel secondo tempo, nonostante un pressing incessante, non riuscivano più a recuperare. Una direzione arbitrale alquanto insufficiente ha suscitato varie lagnanze dei due team nei suoi confronti e di fatto ha lasciato perplessi per svariate, pasticciate decisioni assunte. Per i lavagnesi ora una chiusura di torneo con tre partite su quattro davvero ostiche per risalire la china. Per quel che riguarda il Cornia 2003, visto all'opera al Riboli, è senz'altro in grado di migliorare ulteriormente la sua classifica e lasciare alle proprie spalle un numero maggiore di quelle attuali squadre che la seguono. Migliore in campo Meneghetto e Sparaccio nella ciassetta, Luise e Sansone nelle fila del Cornia 2003. Con le immagini a cura di Davide Cucure diamo ciò che è venuto, Ricco il Carniere ha il quarto minuto in vantaggio alla squadra ospite. Ha avventato retropassaggio di Musante secondo che diviene un assist a favore di Ferreccio. Questi avanza di qualche passo e poi conclude a rete, 0-1 al quarto. A quinto minuto e 30 secondi su palla proveniente da Corner, tentativo di girata da parte di Musante primo con respinta di Cosimini. Sulla sfera si porta a Cataldi che conclude sull'esterno della porta. Al settimo ancora a ciassetta, tocco smarcante di Cataldi per Sparaccio. La sua conclusione è però debole, facile alla presa del portiere. All'undecimo tiro in corsa dalla destra di Lobina, Meneghetto in tuffo però respinge. Al ventitresimo un assolo di Sparaccio con tiro finale di poco alto sopra la traversa. Al ventitresimo il raddoppio ospite, uno scatto di Sansone che lascia sul posto Garibaldi al quale aveva rubato palla, entra in area di rigore e trafigge Meneghetto. 0-2 al ventitresimo. Al trentacinquesimo in area ospite, Angilletta strattona visibilmente Cataldi fino a trascinarlo a terra. Per l'arbitro però nulla di irregolare. Trentasettesimo punizione di Casagrande, palla in area lavagnese, Arata gira a rete, Meneghetto pare a terra. Al trentottesimo, un minuto dopo, vi è una trebice conclusione a rete operata dal Corne 2003, con Sansone prima, Ferriccio poi e Lobina in conclusione. Il suo tiro termina fuori a fil di palo. E al quarantunesimo, al primo tempo, registriamo un tiro dalla media distanza di Sansone che Meneghetto respinge. Nella ripresa, decimo minuto, un'incursione veloce di Sansone con tiro ancora una volta neutralizzato dal portiere in uscita. Al tredicesimo, a provarci per il Cornea e Macchiavello con una girata a rete, grande respinta del portiere lavagnese. Al diciannovesimo, rovesciamento in fronte, Canepa davanti alla porta, tira in diagonale cercando il secondo palo. La palla termina fuori davvero di poco. Passo minuto, ventesimo, dalla destra, tiro a rete di Starna con violenza, Cosimini sulla linea respinge. Al ventiquattresimo, ancora a Ciasetta, tiro da fermo di Sparaccio, palla in aria. Qui Giudici, dopo un contatto con Luise, cade a terra. Per l'arbitro tutto ok. Trentanovesimo, azione capabile di Starna con tiro fuori a fil di secondo palo. Il finale è tutto di marca balligiana. Al quarantatresimo, Casagrande conclude a botta sicura, Meneghetto ancora respinge. E al quarantaseesimo, porro, ruba palla a Sparaccio, entra in aria e batte a rete, Meneghetto, in versione superstar, respinge ancora. Risultato finale allo stadio Riboli, a Ciasetta Lavagna 0, Cornia 2003-2.